Il 29 noi ci troviamo con i collaudatori, perché voi sapete che prima di mettere dentro delle persone bisogna collaudare, che faremo il giro della mattina con i collaudatori in modo tale da verificare che tutti i vari piani, comprensimo il salario operatorio a cui ci teniamo particolarmente, siano a posto. Appuntamento rinviato, quello dei primi trasferimenti alla Cittadella della Salute per esigenze di collaudo. Avrebbero dovuto iniziare il 21 giugno, ma la data prevista per lo spostamento dei primi reparti slitta ai primi di luglio. Prevediamo di far partire le chirurgie nei salari operatori come primo e poi ci sarà tutta l'estate per trasferire ovviamente anche gli altri. Sul fronte della carenza di medici, il direttore generale dell'Ulss2 fa al punto e annuncia che il 2024 sarà l'anno in cui arriveranno i nuovi specialisti. E sul nodo delle liste d'attesa, l'Ulss2 dice che l'obiettivo è quello di azzerare le priorità D e ridurre del 50% le P. Da 25.000 prestazioni totali da eseguire, si conta di arrivare a 3.000 entro l'anno. Fondamentale l'aiuto della Regione Veneto. Grazie all'investimento forte che ha fatto la Regione Veneto per tutto il Veneto, 31 milioni di euro, per la nostra azienda 5 milioni di euro, noi riusciremo, e grazie alla collaborazione dei nostri medici e dei nostri infermieri, riusciremo a fare le prestazioni aggiuntive. Cioè faremo delle ore in più per abbattere le liste d'attesa. E noi contiamo, questo è il piano che ci siamo dati con la Regione Veneto, entro l'anno di azzerarle.